la U! la U vieni qua! la U! la U dove c'è? ですか la U ah c'èia un spazio! ti faccio il messio? Sandra! Sandra! Andrea! ma non c'è la maighetta allora Allora, uno con una maglia bianca che si mette in mezzo. Un controscherzo. Si alza tua sorella e tuo cognato dalla casa, si gira e si accita il nome. Tu sei là. Però è il contrario. Sì, partiamo comunque da un centro ragazzo. Partiamo dalla fine da un centro. Puoi dare il risultato. Io mi metto davanti a lei e mano a mano mi venite vicino però lentamente. Perché va a partire la musica. Vogliamo fare il segnale di inizio da musica. Allora, se vuole il pezzo di Bruno Mars. Non avevo capito qual era. Allora, appena sentite il pezzo di Bruno Mars. Quello è il segnale di inizio da musica. Allora cominceranno ad andare più. Anche gli spazi. No, è uno spazio. E' uno spazio. Uno spazio. Sì, e lei? Ma balliamo prima o due? Non balliamo. Ma no. Non balliamo. Ma ne dobbiamo conferire solo la luce. Ma ok, non balliamo. Allora. Allora. Non ci volete spiegare? Carini con i fiori. Sempre con i fiori. Vi assemblate tutti da un lato? I fiorellino da un lato. Fiorellino da un lato. Fiorellini? No. Cambio. Fiore. Anche noi in fiori. Sì. Biciclette. Chi sono i pazzi delle biciclette? Sono loro. Scusa, vai a mettere la sposa. No, Pietro fa la sposa. Guarda quanto è bella? Biciclette? Biciclette? Biciclisti? 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 Facciamo una prova. Tutti mascherati. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. E andiamo, vai. E che è più grande. Vabbè, perché non ci sono che la maglia a vita, la prima volta non lo voglio dire, la maglia a pianta. La maglia a pianta. E' quella che mi ha detto io me la devo comprare. La maglia a pianta. Guarda la USP è ricordi. La maglia a pianta. E' la maglia a pianta. E' la maglia a pianta. E' la maglia. Ma guarda, scopo. Ma guarda, scopo. Hai visto? Ma precisa. Buon cicicone. Claudia, vieni dietro. Partono prima le biciclette. Adesso Pietro darà il via per la musica. Appena parte la musica partono le biciclette e dietro i fiori. Allora i fiori, aspetta. E per i fiori li vedo io. E carinamente in modo scenografico e danzereccio le lasciano i fiori sul tavolo. Dietro c'è l'Ali. Alessama, perché? Vai, vai. Via, 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 via. Via, via. Via, via. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti